Asprofruit Buonasera gentili telespettatori, questa sera ci spostiamo all'Agnasco con noi alcuni ospiti, vi presento subito il sindaco Ernesto Testa, buonasera sindaco. Buonasera a tre imprenditori, allora diamo subito il buonasera a Alessandra Sacchetto di Asprofruit, buonasera a Carlo Manzo di Ortofruit e buonasera a Gianmatteo Baralis di Lagnasco Group. Bene, il tema evidente sarà anche quello del settore agroalimentare, ma cerchiamo subito di capire col sindaco Testa la situazione economica del territorio, innanzitutto ci vuole raccontare un po' come la realtà di Lagnasco? Allora, Lagnasco è un ameno paese agricolo di 1.400 abitanti nel centro nord della provincia di Cuneo. E' un paese agricolo, quindi per tanti anni ha sviluppato questa economia di tipo classico. Negli anni 70 è cresciuta a livello industriale, in modo praticamente al 100% del territorio, l'attività intensiva di coltivazione della frutta, con specializzazione pesche, mele e poi negli anni dopo kiwi. Coltivazione che è nata nel 1927, grazie al solito pioniere di quel tempo, il bisnonno di Alessandra Sacchetto, che importa dagli Stati Uniti la prima pianticina di pesche, fa una coltivazione comunque già a livello industriale di ben 15 o 20 ettari. Quindi ormai l'economia di Lagnasco gira praticamente molto attorno a questo settore. Ci sono realtà infatti molto importanti di coltivazione, di lavorazione, di conservazione, perché poi negli anni si è specializzata la conservazione e la lavorazione di questo tipo di prodotto. Ormai si arriva addirittura a misurare la funzione clorofiliana delle piante o dei frutti, cioè per dire l'elevato grado di specializzazione che c'è, di ricerca, nella conservazione, al di là di altri aspetti che però loro che sono i tecnici sicuramente faranno molto meglio se del caso. Noi cerchiamo comunque adesso di presentare le aziende e gli imprenditori presenti. Allora Alessandra Sacchetto, partiamo da lei innanzitutto. Che cos'è Aspro Fruit? Aspro Fruit è la prima organizzazione di produttori ortofrutticoli piemontesi nata all'Agnasco. Dico la prima perché è nata nel 1970, è un consorzio cooperativo che raggruppa 450 soci che rappresentano mille produttori operanti principalmente nella regione Piemonte ma anche in altre regioni italiane, la Liguria, la Valle d'Aosta e il Lazio. La base sociale Aspro Fruit rappresenta un territorio, una superficie che va oltre i 7500 ettari di terreni coltivati per una produzione che raggiunge le 25.000 tons di principalmente frutta, ma frutta e verdura per un fatturato di 100 milioni di euro e quindi una realtà, un'associazione di produttori di dimensioni importanti nata appunto, siamo particolarmente orgogliosi quest'anno di festeggiare i 40 anni di attività. Bene, accanto alla dottoressa Sacchetto abbiamo il dottor Manzo, dicevamo, di ortofruit. Ecco, invece ortofruit ci vuole raccontare un po' questa realtà importante sempre del territorio. Ortofruit è invece l'OP, l'organizzazione dei produttori più recente, è nata nel 2003, rappresenta 12 cooperative, la maggior parte in Piemonte ma da quest'anno abbiamo anche due cooperative nel Lazio. Abbiamo circa 1500 ettari di superficie coperta e la peculiarità di ortofruit è di rappresentare sia il mondo frutticolo sia il mondo articolo. Noi abbiamo deciso di diversificare per offrire una gamma maggiore alla grande distribuzione in modo tale da coprire tutta la varietà sia della frutta, sia dei piccoli frutti, sia degli ortaggi e questa è un po' la caratteristica principale. Abbiamo circa 500 aziende produttrici che sono associate alla nostra organizzazione. Bene, per chiudere questo primo ciclo di domande, allora, dottor, anzi, Gian Matteo Baralis, l'Agnasco Gruppo invece di cosa si occupa? L'Agnasco Gruppo anch'essa è la terza OP, diciamo che è nata come periodo di fondazione tra le date prima di Asprofrut e di Ortofruit e quindi è un consorzio di cooperative dove il fatto di far aderire soltanto cooperative chiaramente nei numeri di adesioni è limitata. Abbiamo 5 cooperative che sono aderenti, tra cui la principale è l'Agnasco Frutta. Poi abbiamo la Blu di Valle che si occupa di commercializzazione di piccoli frutti, in particolare di mirtili e di ramassin. Abbiamo la cooperativa Agronatura che è della provincia di Alessandria, quindi è il nostro territorio prevalentemente piemontese. Abbiamo qualche azienda sociale di cooperative della zona sia ligure che di altre parti d'Italia, per la parte più grossa e concentrata in Piemonte, quindi dopo Agronatura abbiamo il frutto permesso che è della zona del Torinese, del Pinerolese, quindi con sede a Bibiana è un'azienda che si occupa, una cooperativa che si occupa di produzioni biologiche, di agriturismo e poi abbiamo una cooperativa che si occupa di ortaggi che è la demacope, quindi in pratica rappresentiamo un po' quello che è l'ambito produttivo dei prodotti ortofrutticoli piemontesi, con una produzione che si aggira intorno ai 650 mila quintali di prodotto commercializzato direttamente dalle nostre strutture, poi abbiamo altri prodotti che invece vengono commercializzati in singolo, che sono prodotti particolari, speciali, essenze, oli, estrazioni varie, quindi questi prodotti qua. Quindi è un consorzio di cooperative ortofrutticole che gestiscono in pratica circa 500 aziende aderenti alle varie cooperative per le loro produzioni con la commercializzazione diretta. Bene, noi ci fermiamo un attimo, conosciamo questa realtà, la lagnasco frutta. Vediamo.